Esploriamo alcune delle regioni più economiche in Europa dove è possibile vivere comodamente con solo 400 euro al mese. Da paesi dell'est Europa come Romania e Bulgaria, al sud dell'Italia e della Spagna, scopriamo insieme questi paradisi terrestri nascosti. Ci sono molti paesi, anche europei, in cui vivere costa decisamente poco. Poco rispetto alla media europea, ma anche meno della media italiana. Si tratta soprattutto di paesi dell'est Europa o del sud del nostro continente, ma non solo. Se pensiamo a quali sono i luoghi più economici per vivere in Europa ci viene in mente la Romania, la Bulgaria, la Grecia, ma anche la Macedonia, la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, oltre all'Albania. L'Italia del Sud, per esempio, insieme al sud della Spagna, è in assoluto tra le zone più economiche di tutta Europa sia per gli affitti che per il costo della vita. E per questo sempre più persone decidono di vivere qui, anche perché il clima è stupendo e piacevole anche d'inverno. A poter vivere nel sud Italia e nel sud della Spagna non sono soltanto le persone che ci lavorano, ma anche le migliaia di lavoratori e lavoratrici che hanno un impiego da remoto. Cioè tutti coloro che non devono per forza andare in ufficio ogni giorno, ma lavorano direttamente dal proprio computer. Viene da sé quindi che possano vivere dove preferiscono. Ma le mete economiche europee sono anche altre. Per esempio il Portogallo, dove gli affitti costano meno che in Italia, la vita ha una qualità altissima, l'estate è fresca grazie all'Oceano Atlantico, l'offerta culturale è notevole e la tassazione è molto bassa. Anche le isole canarie, che si trovano a largo della costa africana del Marocco, ma sono territorio spagnolo, sono un vero e proprio paradiso terrestre per chi vuole vivere spendendo poco. Qui il clima è caldo e temperato tutto l'anno, la natura tra le più affascinanti al mondo, e un affitto può costare anche solo 350 euro al mese. Vivere alle Canarie può essere una decisione ottimale. Oltre al clima mite e il costo della vita molto basso si gode di spiagge, zone desertiche, bellissimi vigneti e un'infinità di attività da fare all'aperto tutto l'anno. Grazie per averci seguito in questo viaggio attraverso alcune delle regioni più economiche d'Europa. Se ti è piaciuto questo video, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale Cristianamente per scoprire altre destinazioni affascinanti e argomenti di interesse. Non dimenticare di cliccare sul campanello per ricevere notifiche sui nostri nuovi video. Arrivederci al prossimo viaggio!